ariete l'umore oggi è più alto e migliora la percezione delle vostre difficoltà anche se il periodo richiede concentrazione impegno e una revisione profonda sarà un toccasana per un futuro migliore toro il periodo mette alla prova le vostre capacità e concede possibilità concrete di cambiare alcune posizioni che non vi soddisfano più ma dovrete agire con sapienza e determinazione gemelli la luna nemica oggi confonde emozioni e ragione il nervosismo potrebbe guassare la giornata e non farvi apprezzare tutto ciò che di buono è stato costruito o vi è stato concesso cancro il sostegno di giove è un ancora di salvezza in questa fase piuttosto critica che vi vede confusi e preda di tensioni ci sono molte situazioni da assestare e non mancano i disagi sarete comunque vincenti leone la luna armonica oggi allinea le emozioni positivamente siete meno irritabili e più disponibili con beneficio per il vostro benessere ma anche per chi vi circonda moderate l'eccessiva sicurezza siate prudenti vergine cielo astrale fortunato e ricco di opportunità per voi che siete sollecitati in molti ambiti di vita dalla sfera sentimentale e affettiva a quella lavorativa oggi però potreste esagerare con le vostre polemiche bilancia più morbide in questa giornata le sensazioni che vi avvolgono ma non c'è dubbio che il quadro astrale vi chiede di ripensare molte questioni che ormai non hanno più valore per voi evitate lo stress scorpione le configurazioni che vi riguardano elargiscono favori e possibilità sta a voi plasmare tanta fortuna con azioni e percorsi giusti e realistici senza farvi prendere la mano da manie di grandezza sagittario la luna nel segno enfatizza sentimenti e buon umore oggi siete espansivi e rivolti al positivo le emozioni buone derivano da un passato che oggi porta qualche frutto gradito capricorno momento denso di influenze astrali intense che arricchiscono il periodo di molteplici impegni e occasioni progetti e cambiamenti che possono trasformare il corso del vostro futuro acquario la luna armonica oggi vi inclina al buon umore in un periodo senza troppe novità di rilievo ma che intravede a breve passaggi astrali fortunati che vi risolleveranno dalle insoddisfazioni pesci le impressioni che oggi emergono sono un po distorte e suscitano nervosismo ma in buona sostanza siete baciati da un assetto astrale molto vantaggioso che vi consente di alzare il tiro delle vostre ambizioni buone stelle grazie grazie